Una villa del valore di circa 4 milioni di euro è stata oggetto di un decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, con cui ne è stato disposto il sequestro in via d'urgenza, in quanto sarebbe stata acquistata con proventi illeciti da parte di una persona originaria di Petilia Policastro. L'immobile, che si trova a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, avrebbe un valore troppo alto rispetto ai redditi dichiarati ai fini delle imposte sia dall'uomo che dai suoi familiari. Il provvedimento di sequestro è stato emesso sulla base degli approfondimenti economico-patrimoniali coordinati dalla DDA di Catanzaro e portati avanti dalla Guardia di Finanza di Venezia, che hanno ritenuto che il proprietario dell'immobile rientrasse nella categoria dei soggetti connotati da pericolosità generica economico-finanziaria, in quanto negli anni era stato coinvolto in svariati casi di bancarotta fraudolenta, truffo e ricettazione commessi nel periodo compreso tra il 1996 e il 2021.